amici del convento di lunato abbiamo un saluto veloce da fare a una festeggiata di questa serata con le sue amiche eccola qua come ti chiami barbara barbara da dove devo scandire bene le parole perché barbara è come dire molto e loquace le piace molto parlare fare le interviste giusto si si vede si vede quindi devo scandire bene da dove vieni devo proprio dirlo se vuoi puoi anche inventare un paese non lo confermeremo la zona da zone ok che si trova dove sul lago di seo sul lago di seo molto bene e cosa stai festeggiando questa sera qui al convento i miei 40 anni vedi con le dice con entusiasmo adesso ha ritrovato tutta la sua verve la sua gioia per il mondo delle interviste come sono andati i tuoi primi 40 anni cosa ti aspetti dai tuoi secondi il meglio dove prima o dopo 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 e prima come sono andati bene bene quindi ti aspetti ancora di più tipo un obiettivo che vuoi raggiungere non lo sai non lo vuoi dire sono qui le tue amiche loro come si chiamano ce le presenti benissimo lei canta canta lei è gigliola non poteva non cantare molto bene è una cantante vedi che l'abbiamo beccata subito salutiamo anche loro vuoi mandare un messaggio a tutti i tuoi amici a tutti quelli che ti guarderanno ciao a tutti giusto si parte sempre con un saluto questa è la base di ogni rapporto comunicativo il saluto vedi che si sta già allargando intanto che il vino entra in circolo esatto e col vino in circolo diventa anche più affettuosa e più è brindiamo brindiamo al suo compleanno eccola qua auguri ai suoi primi 40 anni e come detto lei a come ha detto lei per dei secondi 40 anni ancora migliori e un saluto e a presto ciao ciao ciao